Professore qual è la reazione dei ragazzi rispetto ai temi che gli avete proposto e in quale maniera siete riusciti a coinvolgerli? Diciamo che l'interesse del progetto è stato proprio quello di andare un po' incontro agli interessi dei ragazzi, sono stati loro a scegliere le tematiche, in particolare appunto sia immigrazione che dipendenze e che carcere, per come è stato ideato il progetto si è voluto proprio partire da loro tant'è che abbiamo cominciato chiedendo che cosa queste tematiche faceva risuonare e siamo partiti da loro anche nell'attico dell'inizio della ricerca, nel senso che sono stati loro a realizzare delle presentazioni che poi sono state aggiustate dai vari esperti e in questo senso anche noi abbiamo pensato che proprio farli entrare in contatto con le professioni che si occupano di queste tematiche si è stato un percorso perlomeno interessante per avvicinarli a questo mondo in maniera un po' più seria e consapevole I ragazzi hanno conosciuto questo mondo per la prima volta oppure avevano già delle nozioni scolastiche su questi temi? In realtà proprio per l'indirizzo della loro scuola non avevano mai incontrato rispetto magari ad altri istituti tecnici più orientati alla dimensione del lavoro e in questo senso è stato proprio a nostro avviso un valore aggiunto quello di farli toccare con mano anche questa realtà proprio Borghini, Pietro è venuto a presentare in classe prima dell'incontro di oggi che cosa significa cooperazione sociale e proprio l'attività che stanno svolgendo era legata a questa simulazione È un'opportunità per i ragazzi importante visto che sul territorio riminese la cooperazione esprime un numero di imprese importanti un'opportunità di lavoro futura Esatto, infatti quello che ci interessava era far conoscere quella che è la realtà riminese e soprattutto far capire che è una possibilità anche di orientamento futuro questo credo che sia stato percepito dai ragazzi